Benvenuti in questo nuovo percorso di affermazioni guidate. Oggi useremo delle affermazioni da ripetere il mattino per caricarsi di energia ed affrontare la giornata in modo positivo e propositivo. Questo perché le affermazioni sono strumenti potenti che possono costruire nuovi percorsi neurali nel cervello. Ripeterò queste affermazioni due volte lasciandoti il tempo per ripeterle a tua volta ad alta voce o nella tua mente come preferisci. Oggi sarà una giornata meravigliosa. Oggi sarà una giornata meravigliosa. Mi sento piena di energia e pronta a conquistare il mondo. Sono grata per tutto ciò che ho. Mi merito tutto il successo che ottengo. Mi merito tutto il successo che ottengo. Affronto ogni sfida con coraggio e fiducia. Affronto ogni sfida con coraggio e fiducia. Sono in pace con me stessa e con il mondo. Sono in pace con me stessa e con il mondo. Sono circondata da amore e positività. Sono circondata da amore e positività. Il mio corpo è sano e forte. Il mio corpo è sano e forte. La mia mente è chiara e concentrata. La mia mente è chiara e concentrata. Mi apro a nuove opportunità ogni giorno. Ho il potere di creare la vita che desidero. Ho il potere di creare la vita che desidero. Sono capace di superare qualsiasi ostacolo. Sono capace di superare qualsiasi ostacolo. Scelgo di essere felice e positiva. Scelgo di essere felice e positiva. Sono grata per questo nuovo giorno. Sono grata per questo nuovo giorno. Amo e accetto me stessa completamente. Amo e accetto me stessa completamente. Ho fiducia nelle mie capacità. Ho fiducia nelle mie capacità. Attraverso la gentilezza creo relazioni forti e positive. Ogni giorno imparo e cresco come persona. Mi merito di essere felice e prospera. Mi merito di essere felice e prospera. La mia vita è piena di abbondanza e successo. La mia vita è piena di abbondanza e successo. Sono una persona creativa e talentuosa. Sono una persona creativa e talentuosa. sono in sintonia con il mio vero sé. Sono in sintonia con il mio vero sé. Attraverso il mio lavoro faccio la differenza nel mondo. Attraverso il mio lavoro faccio la differenza nel mondo. Oggi scelgo di essere felice e piena di energia. Oggi scelgo di essere felice e piena di energia. Sono grata per tutte le esperienze che mi fanno crescere. Sono un magnete per cose buone e positive. Sono un magnete per cose buone e positive. Oggi è il giorno in cui realizzo i miei sogni. Oggi è il giorno in cui realizzo i miei sogni. Il mio cuore è aperto all'amore e alla gioia. Il mio cuore è aperto all'amore e alla gioia. Vivo nel momento presente con gratitudine. Vivo nel momento presente con gratitudine. Sono serena e calma anche nelle situazioni difficili. Ogni giorno è un'opportunità per migliorare. Ogni giorno è un'opportunità per migliorare. Il mio futuro è luminoso e pieno di possibilità. Il mio futuro è luminoso e pieno di possibilità. Sono una leader naturale e ispiro gli altri. Le mie parole e azioni sono piene di amore e gentilezza. Mi sento equilibrata e centrata. Mi circondo di persone positive e amorevoli. Mi circondo di persone positive e amorevoli. Sono determinata e persistente nei miei obiettivi. Sono determinata e persistente nei miei obiettivi. Ogni giorno scelgo di vedere il lato positivo delle cose. La mia vita è una riflessione delle mie scelte positive. La mia vita è una riflessione delle mie scelte positive. sono piena di entusiasmo e vitalità. Sono piena di entusiasmo e vitalità. Mi apro a nuove esperienze con coraggio e fiducia. Mi apro a nuove esperienze con coraggio e fiducia. La mia autostima cresce ogni giorno. Attraverso il perdono libero me stessa e gli altri. Ho il potere di creare cambiamenti positivi nella mia vita. Ho il potere di creare cambiamenti positivi nella mia vita. Oggi sono una versione migliore di me stessa rispetto a ieri. Sono circondata da amore e supporto. Sono circondata da amore e supporto. Ogni passo che faccio mi avvicina ai miei sogni. Scelgo di essere proattiva e determinata. Scelgo di essere proattiva e determinata. Ogni mattina mi sveglio con un cuore pieno di gratitudine. La mia vita è piena di meraviglie e opportunità. Spero che queste affermazioni ti aiutino a iniziare la giornata con la giusta energia. Namasté Grazie 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 Grazie